prima di concludere con la poesia Volevo presentare un attimo questi due allievi che ho portato loro fanno parte della scuola media di inizio musicale Cavour di Castelmadama hanno iniziato a studiare il violino con me adesso che sono andata a pezioni sono affidata a una nuova insegnante che è arrivata ma io continuo a seguirle perché sono delle ragazze che hanno la passione per questo strumento io spero che continuino nel tempo a coltivarla e hanno mostrato delle abilità naturalmente lei ha iniziato dopo Giorgia quindi come programma è un pochino indietro ma sicuramente sarà un'allieva che darà grandi soddisfazioni quindi noi questa sera è una delle prime esibizioni che lei fa in pubblico vi facciamo un brano di un minuto va bene? giusto per avere la soddisfazione di risuonare davanti a voi bravo grazie come ti chiami? Elena Paolo? Elena e Nake dopo Elena si prepara subito Giorgia perché così con Giorgia facciamo sentire il secondo brano poi dopo magari più tardi sono già grazie 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 Allora Elena legge con me perché purtroppo non riuscivamo a trovare la sua parte, quindi speriamo di riuscire a risolvere in questa maniera. Ci vedete. 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 Ci vedete.